Ciao, sono Luana, un'operatrice della Caritas Diocesana e oggi vi trovo qui per presentarvi il progetto diocesano per il cammino di Quaresima 2021. Si tratta di un progetto per il contrasto all'emergenza freddo. Ogni anno, anche sul nostro territorio nei periodi più freddi, molte persone sono costrette a dormire all'aperto e in alloggi di fortuna. Quest'anno la situazione è ancora peggiore perché le case di pronta accoglienza sono ancora chiuse a causa dell'emergenza Covid-19 e gran parte delle persone senza dimora sono costrette a dormire fuori. Caritas Diocesana nel 2020 ha incontrato un centinaio di persone senza dimora e con le altre associazioni del territorio ha tentato di rispondere attraverso la consegna di sacchi a pelo e beni di prima necessità oppure indirizzando le persone alla mensa per un pasto caldo d'asporto o quando è stato necessario ha prenotato delle stanze presso alcune strutture recettive del nostro territorio. In attesa che queste case di pronta accoglienza si riorganizzano ti chiediamo di aiutarci a implementare il servizio di ospitalità per cui ti chiediamo di aiutarci a sostenere un posto letto per un fratello. Per informazioni puoi contattarci al sito della Caritas Diocesana www.caritasfano.it, puoi iscriverci al nostro indirizzo info-caritasfano.net o chiamarci al numero di telefono 0721 828830. Grazie Grazie